io bella siamo di ritorno dal sarah expedition siamo compagnia dei nostri amici in mezzo alle dune di dromedari fatto nottata sotto le stelle a mangiare assieme a dormire sotto le stelle stamattina mi son beccato il sorgere del sole sulla duna atena i cani sono contenti sono d'accordo con i dromedari per lo meno atena adesso ho discesa 4x4 è irrecuperabile attenzione paura oggi stiamo ritornando alla tenda tardi vedremo cosa fare bella saluto al sarah cazzo io bro